buonasera amici qui abbiamo la mia vasca sopra abbiamo montato un diffusore a una sola lampada una radeon xr 30 g4 pro come vedete c'è una sostanziale differenza tra i due lati la parte dove c'è il diffusore luce molto più blanda dunque giustifica il discorso di ecotec marine dice che allora si monta un diffusore bisogna salire l'intensità del 25 per cento è altosì vero che diminuiscono notevolmente i riverber in vasca questo è dovrebbe essere un beneficio per gli sps procederò subito a montare l'altro diffusore vediamo la differenza di intensità buonasera a tutti